Allora, 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 benvenuti sul mio sito Cose su di me, non per me di allomania Volevo fare l'artista Beh, anche un po' per me di allomania Sono perso di vista Dopo la tesi una paresi ha bloccato l'emisfero Destro e tutto il mio estro C'è uno showreel, cioè ci sono le mie date Ho fatto mille colloqui Sempre la stessa Sul sito ci sono Le un'incapace ci fa perdere tempo Ci sono le tavole del palcoscenico Quella è la porta Le mie date sono di fianco qui, dovrebbero essere mi sembra Ma oggi ho svoltato imprendito Sono diventato da tutti ingaggiato per me Organizzamenti risolvi ogni problema Non so cos'altro dirvi Credo che queste siano tutte le informazioni Il sito l'ha fatto Vincenzo Albano Non hai che far richiesta Ed io ti faccio la festa L'organizzazione Ci tengo a dire La canzone che state sentendo Il costruttore di eventi Scritta assieme a Paolo Ligolsi Dipende dal tuo budget Dipende da che spendi E avrai le soluzioni più tra Beh, ciao Buon divertimento Ciao